Tra memoria comune e nostalgia privata, Carlo Conti racconta di sé, ripercorre la sua vita, componendo un ritratto leggero, divertente, condiviso. Chi ha più di 40 anni sa benissimo chi era un remigino, ovvero chi come me aveva la fortuna di iniziare l'anno scolastico il primo ottobre, il giorno di San Remigio, il primo giorno di scuola, non si dimentica mai, più o meno come il primo bacio. I suoi ricordi privati sono memoria collettiva, la fotografia di una generazione, quella di ragazzi normali, nati negli anni 60. Noi che non avevamo il computer, il cellulare, i videogiochi, la parabola satellitare, il digitale terrestre, ma avevamo la radio. Grazie a tutti!